Il Romosozum rappresenta l'ultima arma molto efficace per la terapia delle forme più gravi di osteoporosi. Se ne è parlato qui a Giardini Naxos al 23esimo congresso nazionale della SIOMS a circa un anno dalla sua disponibilità in Italia e noi abbiamo parlato con il professor Gerardo Mazziotti. Professor Mazziotti, incominciamo dal meccanismo d'azione di Romosozum e dalle sue specificità perché è abbastanza particolare. Esatto, il farmaco è tutto particolare, ha in sé l'attività di una terapia di combinazione in quanto è in grado di inibire il riassorbimento ma soprattutto di stimolare la neoformazione ossea quindi un effetto che non è possibile ottenere con altri farmaci se non in combinazione almeno per quelli che sono attualmente disponibili nella pratica clinica. L'altra peculiarità del farmaco è quella di avere un'azione di stimolazione sulla neoformazione ossea attraverso un meccanismo cosiddetto modeling based come gli anglosassini ci insegnano vale a dire una stimolazione del modellamento scheletrico che è diverso rispetto al rimodellamento. È una situazione di stimolazione della neoformazione a discapito del riassorbimento. Il 60% di questa attività è legata alla stimolazione della neoformazione ossea del modeling. Ecco, questo poi come si traduce in termini di efficacia sia breve, medio e lungo termine, professore? Si traduce in un effetto straordinario sulla densità minerale ossea. Lei deve pensare che già dopo 12 mesi di trattamento, il trattamento come diremo viene utilizzato per 12 mesi, otteniamo un risultato straordinario di un aumento della dbmd lombare di circa il 15%. Qualche anno fa sarebbe stato impensabile solo ipotizzare un effetto di questo tipo. E quello che riusciamo a ottenere con un anno di romosozua corrisponde a quello che normalmente otteniamo e vediamo con 3-5 anni di trattamento col denosumab, che tra i farmaci antiriassobitivi è quello più potente. Che è già molto efficace. Come si utilizza dal punto di vista pratico? C'è come si somministra innanzitutto, ogni quante volte si somministra, per quanto tempo va dato il farmaco? E poi, professore, ancora una cosa, una volta che si sospende cosa fare dopo? Il farmaco viene somministrato per via sottocutanea mensilmente, al dosaggio di 210 mg al mese, si tratta di somministrare due iniezioni sottocute da 105 mg, viene utilizzato per 12 mesi e come dicevamo in precedenza, 12 mesi di terapia sono in grado di ottenere un enorme effetto sulla bmd, ma non solo, ha anche un importante effetto sulle fratture vertebrali e l'effetto sulle fratture vertebrali è rapidissimo. Deve pensare che negli studi registrativi i pochi pazienti che hanno avuto fratture in corso di trattamento con romososumab hanno avuto nei primi due mesi di trattamento, quindi dopo il secondo mese il rischio è praticamente azzerato. Alla fine dei 12 mesi di romososumab si utilizzano delle terapie antiriassorbitive, tra i farmaci antiriassorbitivi quello che ha dimostrato, almeno nei trial registrativi, perché esperienze di real life sono veramente scarse, e il denosumab semestrale. Senta, passiamo invece al tema della sicurezza, in particolare quella cardiovascolare. Qui va chiarita un po' la situazione, professore, per appunto dare la giusta sicurezza a chi poi lo deve prescrivere. Lo studio, noi abbiamo due studi registrativi, lo studio Frame e lo studio Arce. Lo studio Arce, lo studio di confronto del romososumab con l'alendronato, ha dimostrato un'incidenza di eventi cardiovascolari maggiori nel trattamento con romososumab intorno al 2% delle donne trattate rispetto all'alendronato, e questa differenza è risultata statisticamente significativa. Lo studio Frame, sempre condotto in donne in posto menopausa, non aveva evidenzato questo tipo di effetto. Le ipotesi possono sostanzialmente essere due. La prima è che lo studio Arce includeva donne a più alto rischio fratturativo, che sappiamo benissimo essere anche quelle persone a più alto rischio cardiovascolare. Basti pensare che la mortalità correlata ad una frattura osteoporotica è prevalentemente una mortalità cardiovascolare. Il secondo motivo potrebbe essere non l'effetto dannoso del romososumab, ma un effetto potenzialmente protettivo dell'alendronato, che ovviamente nello studio precedente non era stato evidenziato perché il braccio di confronto era rappresentato dal placebo. Teniamo però conto del fatto che se noi consideriamo lo studio Arce, le sole 50 donne che avevano avuto un evento cardiovascolare erano prevalentemente donne che già avevano in precedenza un elevato rischio cardiovascolare. 46 su 50 erano donne che già avevano una patologia cardiaca. Ad oggi quindi quello che normalmente facciamo, selezioniamo le donne da trattare, le donne che hanno avuto un evento cardiovascolare maggiore, ictus o infarto, purtroppo non possiamo prescrivere la terapia. Per le altre donne cerchiamo di modulare, valutare, ma anche modulare il rischio cardiovascolare, perché sappiamo che il rischio cardiovascolare va trattato, a prescindere dal trattamento del romososumab, perché rimane comunque un fattore di rischio di mortalità nel soggetto affetto da osteoporosi. Quindi controindicazione assoluta in chi ha già avuto un evento grave e una certa attenzione nelle selezioni agli altri pazienti. È così, professore? Assolutamente sì. Senta, e veniamo alla, credo che la domanda più importante, cioè il posto in terapia. Quando utilizzarlo? Alla luce di quello che ci ha detto sull'efficacia e sulla sicurezza, ma anche naturalmente alla luce della nota 79, che regola la prescrizione in regime di rimborsabilità dei farmaci contro l'osteoporosi. Applicando appunto la nota 79, attualmente il romososumab possiamo utilizzare il rimborso SSN nelle donne in post-menopausa che abbiano già subito delle fratture sia vertebrali che non vertebrali, e questa è una novità per la terapia anabolica, con un rischio fratturativo a 10 anni superiore al 20% e che abbiano già avuto un trattamento precedente con altri farmaci. Quindi una terapia in prevenzione secondaria delle fratture e in seconda linea rispetto ad altri farmaci. Siete, professore, i farmaci per l'osteoporosi ce ne erano già tanti, c'erano tutti gli antirassorbitivi, c'è almeno per adesso un farmaco anabolico, poi forse se ne aggiungerà un secondo, e poi c'è il romosozoma che ha tutti e due gli effetti. Ecco, aggiunge veramente qualche cosa alla terapia dell'osteoporosi, professore? Assolutamente sì, perché la terapia dell'osteoporosi oggi sappiamo che non è una terapia legata a un singolo farmaco, ma una strategia terapeutica che prevede una sequenzialità dei farmaci, e sto parlando soprattutto per quello che concerne la donna o anche l'uomo, perché sicuramente questo farmaco verrà approvato in futuro anche per l'uomo, con un'osteoporosi severa, quindi con la necessità di essere trattata a lungo termine, e questo non può essere assolutamente effettuato con un singolo farmaco. Ecco, perché ricordiamolo, le fratture da fragilità che appunto questo farmaco consente di prevenire in larga misura sono un problema enorme dal punto di vista clinico, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale. Attualmente se valutiamo la spesa sanitaria che viene messa a disposizione per il trattamento dell'osteoporosi, oltre il 90% della spesa è ancora utilizzata per trattare le complicanze dell'osteoporosi, non certamente la prevenzione delle fratture. Quindi sono a prevenire una cosa importante. Assolutamente sì.